Spalletti buongiorno, la Champions, il campionato, il Torino, ancora tanti tantissimi impegni, le chiedo se è il momento più bello della sua carriera. Spalletti buongiorno. Perché poi in fondo noi verremo giudicati per quello che è la serietà, la professionalità, l'umiltà con cui ha affrontato le cose nel percorso, nel tempo. Io ho questa esigenza e mi devo affrettare perché io di tempo non ne ho molto. Per cui so che devo dare valore a tutte le cose che mi passano davanti, soprattutto ora. E io, per completarlo, per il Napoli, sono disposto a tutto. Sport Italia. Qui ci sta dicendo che questo può essere un anno irripetibile, guardando anche il sorteggio Champions, guardando il cammino del Napoli al campionato. Per quanto mi riguarda, l'anno irripetibile sarà quello dopo questo, o perlomeno nelle intenzioni, sarà quello dopo questo, qualsiasi cosa succeda. E dopo quell'anno lì sarà ancora quello dopo, nonostante qualsiasi cosa succeda. Si può andare avanti all'infinito, perché sarà sempre così. Sarà irripetibile quello che è il traguardo, è sempre, o perlomeno il meglio, è sempre quello che vuoi andare a prendere, che vuoi andare a scoprire. Perché non ci si ferma, non ci si deve fermare mai, si va sempre a scavare ancora più in profondità, a trovare qualcosa che ti dia questa soddisfazione, come dicevamo prima. Radio Chris Chris, e si prepara il Corriere dello Sport. Buongiorno Minister, io vorrei proiettarmi al Torino, una squadra che ha una sua linea ben definita dal punto di vista calcistico. Però spesso e volentieri le squadre si sono anche un po' snaturate per affrontare il Napoli, l'ultima l'abbiamo vista anche un po', l'intracht di Francoforte. Però lei quanto è soddisfatto anche della capacità della squadra di adattarsi a tutte le soluzioni di gioco che si trova davanti nel corso del match? E anche quanto è soddisfatto della crescita dei ragazzi nelle scelte individuali all'interno delle varie partite che avete affrontato? Parlo volentieri del Torino per il rispetto che non solo gli devo alla squadra di Juric, ma anche che gli riconosco perché so che sarà una partita molto difficile. Il Torino non cambierà atteggiamento, l'intracht ha cambiato qualcosa perché c'era il risultato dell'andata dove hanno toccato con mano delle cose che probabilmente li hanno costretti a dover cambiare qualcosa. Il Torino no, il Torino fa sempre la stessa maniera, è un avversario molto complicato perché è asfissiante in tutto quello che fa, non solo in fase di non possesso. Anche in fase di possesso loro vogliono mantenere un livello di fatica altissimo dentro la partita, sono allenati a questo. Poi quando tu hai la palla non vedi mai di fronte a te, sei sempre costretto spesso a riportare palla dal portiere e a farla diventare un duello costante sulla fisicità. Perché loro ti pressano continuamente, piano, 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 non caschi anche lei. E quindi sono sempre disposti a farti sentire il fiato sul collo e per una squadra come noi che usa un po' di possesso palla ogni tanto per portare la partita dove vuole. Per loro diventa un divertimento non farti giocare sul pulito. Per cui sarà una partita difficile. Stiamo facendo un grande campionato, ormai con Iuric qualche volta ho anche discusso, ma però poi sotto sotto quando ci si parla siamo più tranquilli. C'è sempre stata grande stima a quella che è la qualità del lavoro, a quello che è l'impegno profuso, perché anche lui, perché mi impegna anch'io, si vede che pensa a quello che è il suo lavoro, a quello che deve fare con la squadra. Grazie a lei. Corriere dello Sport e si prepara la gazzetta dello Sport. Buongiorno. Quando Spalletti dice non ho tempo, immagino voglia dire non ho molto tempo, la curiosità quindi nasce spontanea come direbbero quelli della televisione. Come? Nasce spontanea come direbbero quelli della televisione. Che vuol dire non ho molto tempo? Vuol dire che si è dato una scadenza... Vuol dire che ho 64 anni. È quello. E quant'è questa scadenza che si è dato Luciano Spalletti? E visto che oggi è una bella giornata mi dirà anche in questo tempo che si è concesso cosa ci vuole infilare dentro. Perché per scaramanzia diciamo che, o anche per legittima forma di prudenza, non si può parlare di cose che potrebbero accadere sul breve. Per non andare oltre la scadenza temporale del prossimo impegno, immagino che non sia il caso poi di proiettarsi sulla Champions. Però almeno ci tolga la curiosità di sapere. la prossima vita di Spalletti cosa prevede? Ma non lo so. Ogni momento può essere diverso. Per cui è meglio non fare calcoli. Uno va ad affrontare nel momento che vivi, che ci sono le situazioni da andare a metterci mano di volta in volta perché le considerazioni di quel momento lì possono essere differenti da quella che che è una valutazione, una previsione a distanza di tempo. Per cui si prova sempre ad essere migliori di quello che siamo stati. non mi ha detto che la quale è tornare in partita. Ma cioè come come questo questo lo vedremo lo vedremo perché poi anche questo nasce da quello da quello che succede e se penso a quello che che è la disponibilità e l'impegno della squadra vorrei vivere in eterno. Se penso a quello che è successo l'altra sera per la città o quello che succede ogni tanto vorrei non partecipare a questo tipo di situazioni insomma ecco e accettando che succeda ma guardandoci dentro è una cosa che mi disturba e non ne vorrei far parte mentre involontariamente o di rimbalzo ne fai parte anche te perché è il tuo mondo per cui dipende sempre da quello che che sono le evoluzioni delle cose da quello che è da quello che è ciò che riesci a chiappare a percepire come come amore perché poi in fondo la cosa fondamentale è quanto hai amato le cose e quanto sei stato amato è quello che conta. Gazzetta dello Sport e si prepara il Corriere della Sera. Buongiorno non c'è in questa fase un problema di turnover anche perché poi si va alle nazionali però ci può essere parlo in generale non sto parlando di singole scelte un discorso anche di affaticamenti di stanchezze di giocatori che magari attraversano un periodo di forma particolare ecco in questo senso a livello generale domani c'è da aspettarsi qualche cambio in più o comunque la squadra sta bene può arrivare a questa sosta sullo slancio di quello che ha fatto fino adesso? può succedere che ci sia qualche titolare differente a quello della partita precedente ma si fa quello che si fa sempre ci si prepara al meglio ogni giorno per ogni singola partita una alla volta partite una alla volta i conti in fondo ma le partite una alla volta e le alternanze sono sempre un po' in base alla forma dei singoli perché succede così in base a quella che può essere la relazione a quelle che sono delle caratteristiche non ho non ho il timore di di sbagliare in maniera profonda perché qualsiasi cosa scelgo secondo me scelgo bene perché ce li ho tutti molto interessati alla causa e ce li ho tutti molto disponibili da un punto di vista fisico e da un punto di vista mentale sono valutazioni che si fanno in base un po' alla partita in base un po' a quella che può essere la reazione di questa grande attesa del risultato della partita precedente che c'era nell'aria perché poi a livello mentale viene spesso tantissimo perché perché ti dicono che l'hai già vinta tutti ti dicono guarda pensa a quella successiva pensa al prossimo turno tutti parlano di prossimo turno tutti parlano di risultato facile tutti parlano e tu ti trovi a giocarla in in condizioni mentali di svantaggio totale perché poi se tu fossi lì dentro ti accorgeresti di questo siccome non ci sei allora uno fa delle valutazioni differenti ma se tu sei costretto a subire questo quest'idea o questo questo racconto che sei già di là mentre devi affrontare una partita ti costa ancora ancora di più di quello che è il costo reale che hanno le partite ti mette in una situazione di difficoltà per la partita stessa Corriere della Sera e si prepara la Repubblica quando parlava del Torino mi veniva in mente un concetto che diceva spesso l'anno scorso sulla crescita del calcio italiano perché è difficile andare a giocare col Torino l'Atalanta all'epoca anche il Verona la Fiorentina queste squadre di mezzo diciamo nella classifica della Sera A visto anche quanto sta accadendo in Europa con le squadre italiane che vanno avanti che fotografia c'è oggi del calcio italiano e che soddisfazione è guidarlo in classifica ma c'è una fotografia di ricerca di fare delle cose più moderne di rifare delle cose più più forti da un punto di vista di impatto dentro la gara ecco per esempio penso penso alla qualità del portiere che è il Torino di quando gli riportano la palla dietro tu vai a pressare e sei costretto in una pallata sola a dover ricomporre dentro l'area di rigore in un attimo tu dici idealmente ora gliela vado a prendere e gli creo problemi e loro te la mettano a 70 metri perché lui ha un calcio che da dentro l'area piccola te la mette al limite dell'area tua sei costretto a questo sciagattone di dover ricomporre la linea difensiva da metà campo perché quando la vai a prendere al limite dell'area la linea difensiva deve avere i piedi sulla metà campo ti ribalta tutto sei costretto a fare questo rientro anche con le punte che vanno a mordere forte perché l'eventuale ribattuta della linea difensiva ammesso che ci sarevi prima sulla caduta della palla riarriva a metà campo per cui sono queste queste cose che che fanno parte di un calcio moderno e che e che poi loro hanno anche questa questa soluzione oltre che fisica anche gli attaccanti di velocità e di tecnica perché io gli attaccanti li conosco bene Caramollo allenato all'Inter e a questi guizi fatti di quell'imprevedibilità che creano problemi per cui questo questo qui è per dire che il calcio va avanti nel senso che che ci sono sempre cose da prendere e che questo modo di fare mentre mentre l'ampiezza rimane sempre lì la lunghezza del campo tu la puoi accorciare in base a come ti comporti con la linea difensiva a loro non gliene frega niente da accorciarlo il campo anzi se potessero farebbero ancora più lungo e più largo perché vogliano andare a giocare da cavalli sciolti nelle praterie vogliano andare a fare queste corse in libertà dietro a un pallone come si faceva da ragazzi diventa diventa complicato per per ritrovare poi quelle che sono le distanze le misure per fare un possesso palla per fare una qualità di gioco che che ci assomiglia come modo di fare insomma ecco Repubblica e si prepara il mattino eccomi buongiorno vorrei chiederle sotto se Raspadori recupera per il match domani col Torino e se è soddisfatto dei progressi in Don Belè nelle ultime partite in Don Belè nelle ultime partite che è entrato che ha fatto sempre molto bene grazie Raspadori non recupera tant'è che mi sembra di aver letto che non va neanche il nazionale mi sbaglierò mi sembra di aver letto così ho letto per cui ho saputo anche questa notizia leggendo e Don Belè è un giocatore forte un calciatore forte all'inizio non lo conoscevo molto c'era il dubbio del perché una squadra come il Tottenham l'avesse lasciato partire per quello che ho visto io e vedendo la partita dell'altro giorno Milan Tottenham e per quello che è la mia conoscenza io ce lo vedevo bene dentro per cui è un calciatore che che alleno volentieri perché è un ragazzo anche molto dolce è un calciatore forte fisicamente perché nella modernità del calcio c'è da includere questa forza fisica che è un valore importante lui ha forza motore tecnica ha questi questi guizzi di lucidità dove riesce a acchiappare dove si libera lo spazio per andare a imbucarci la palla con anticipo Don Belè è un calciatore che mi garba si dice in Toscana il mattino e si prepara Canale 8 buongiorno mister le volevo chiedere il Napoli ha esattamente lo stesso rendimento in casa e fuori come numero di vittorie di pareggio e di sconfitte ecco questo è un altro segnale importante della mentalità che lei è riuscita a trasferire alla squadra cioè di avere sempre e comunque la stessa fisionomia di provare a metterci in campo sempre le stesse cose e di ottenere quindi lo stesso tipo di risultati grazie ma se si va a fare cose che siamo abituati a fare di solito ci si trova più a nostro agio dentro nel nel metterci mano nell'andarsi a comportare poi è chiaro che che questo comporta anche di essere leggibili poi ma quella che è la creatività di calciatori tipo Politano Lozzano Caraschelia Osimen Simeone Raspadori Zielischi Elmas Gli si lascia perché c'è da imparare da quella che è la loro qualità per cui si cerca di chiappare un po' tutte e due di essere un po' organizzati come squadra ma di lasciare poi che che la qualità individuale dia quelle soluzioni che sono che sono la scorciatoia per andare a far male agli avversari Canale 8 e si prepara Radio Wall Station Buongiorno Di Lorenzo ha parlato in un'intervista che è uscita stamattina della consapevolezza di questa squadra che è cresciuta poi nel tempo attraverso anche delle prestazioni molto importanti determinanti ai fini della stagione ma la continuità che poi secondo me è l'arma forse più importante o comunque la caratteristica principale di questa squadra che la differenzia veramente dal resto delle altre da che cosa deriva secondo lei da questa forza interiore che ha il gruppo perché si sente forte dalla capacità di avere un obiettivo centrato nel mirino da non mollare o da quello che ci mette poi lei anche tanto dentro negli allenamenti grazie è sempre è sempre quello che ci mettono loro è sempre la loro la loro ricerca la loro voglia di determinare di non di non vivacchiare di voler far vedere di che pasta sono fatti e questo poi comporta anche un po' di sacrificio perché avere sempre lo stesso atteggiamento ci sono dei giorni che che sono diversi agli altri allora ti devi andare lì a guardare a impostarti per rifare ugualmente un'altra giornata seria professionale di quelle che che lasciano il segno tutte le volte perché poi la domenica sei più pronto perché loro hanno capito bene a cosa siamo di fronte e ce l'hanno bella chiara quella che è la loro volontà nell'andare a prendere questo quello che deve essere il comportamento momento dopo momento insomma ecco lui è qualcosa di incredibile come come persona come calciatore perché perché l'abbiamo detto più volte è uno di quelli che va sempre avanti cioè ogni allenamento che gli vedo fare gli trovo qualche cosa di più e sembra se lo pensi la notte quello che che deve far vedere essendo un capitano di nuovo alla squadra per diventare sempre meglio e per crescere sempre ecco e questo è lo spirito corretto della squadra Radio One Station e si prepara Radio CRC buongiorno mister ha paventato la possibilità di vedere qualche titolare differente rispetto all'ultima gara le chiedo se è plausibile aspettarsi domani dal primo minuto uno tra Elmas e Simeone ora lei mi vuol far diventare antipatico con i miei calciatori mentre io me li abbraccio dalla mattina alla sera per cui bisogna anche valutare che poi c'è una sosta dopo e che c'è possibilità di recuperare bene per cui quelli che stanno che stanno bene che non subiscono diciamo un un arrugginire dei meccanismi fisici per la tensione della partita precedente si vanno a riusare quelli lì oppure quelli che possono soffrire una fatica così oppure quelli che come Elmas meriterebbe di giocarla qualche partita da titolare perché è giusto questo lo meritano un po' tutti perché poi anche quelli che ho messo dopo hanno fatto un po' tutti come lui nel senso che hanno dato sempre un risultato importante per ai figli del dell'obiettivo di squadra va bene qualche cosa si cambia però per il momento non fatemi dire quello che si cambia prego Radio CRC e si prepara Napoli Giove buongiorno Spaletti terminato il divieto di trasferta domani sono attesi oltre 10.000 tifosi praticamente il grande torino sarà per metà azzurro le chiedo quanto è importante per voi ritrovare la spinta del vostro pubblico anche lontano da Napoli per noi è fondamentale è fondamentale anzi io spero che non risucceda più quello che è successo perché perché poi in fondo capisco che ci sono storici dietro situazioni che 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 ti comportano di avere un atteggiamento ma che che poi la squadra si sente più forte con il proprio pubblico sugli spalti che prima di tutto diventa più bella la partita perché poi quando quando viene viene escluso un pubblico a una partita ce ne sono molti colpevoli ma ce ne sono molti non colpevoli che vorrebbero assistere che vorrebbero essere lì e questi vengono penalizzati involontariamente io ho temuto quando poi è successo la squalifica del nostro settore per le partite che andavamo a giocare perché perché per noi sono un sostegno importante e i calciatori hanno bisogno di quell'orecchio pieno di quelle cose lì che ci dà la curva perché perché ogni tanto gli fa più quella che è la reazione del pubblico e degli sportivi di quello che può essere un urlo mio un consiglio mio che loro sono capaci di direzionare emotivamente la partita su dei livelli che che a volte la mia posizione non me lo consente ultimi due napoleggiamo e a seguire 100% Napoli mister buongiorno le volevo chiedere di Zelischi il ragazzo mercoledì ha fatto una prestazione di assoluto livello sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo è stato stato veramente di ottima fattura ma a ben guardare diciamo in Champions Zelischi ha sempre fatto diciamo molto molto bene merito di maggiori motivazioni che la competizione riesce a trasmettere oppure proprio il gioco della Champions un po' più aperto dove si incontrano squadre anche lo stesso Entrec l'altra sera ha giocato un filino più largo riesce a diciamo esaltare le sue qualità che quindi diciamo può esprimere maggiormente il proprio potenziale grazie a me mi era sembrato di guardarle però la sento un osservatore attento per cui vado a rivedere quello che è successo perché secondo me ha giocato nello stesso modo anche in campionato non gliel'ho trovata tanta differenza ma ora vado a rivedere e Zelischi è un po' dentro il discorso che facevamo cioè dentro la crescita costante della squadra si nutre di quello che è il comportamento continuamente della squadra o di quello che viene fuori per la volta successiva a metterci ancora qualche cosa di più un calciatore che ha resistenza tecnica a gol perché calcia in maniera straordinaria sia di destro che di sinistro secondo me sta mettendo mano in maniera pesante a quello che è il suo carattere perché perché a volte se sei troppo buono troppo bravo in questo mondo qui non sempre ti dà dei vantaggi per cui dentro c'è anche incluso il calcio la vena sul collo ogni tanto bisogna farsi venire la vena sul collo Caraschelia quando ha fatto gol l'altro giorno con quel dribbling di tutto di tutto mentre calciava in porta aveva la vena sul collo e e quando è arrivato non ce l'aveva così evidente ora mi garba di più perché c'ha la vena sul collo allora Spalletti buongiorno mi ricollego soltanto per una cosa finale alla domanda del mio collega perché volevo sapere se c'era un motivo particolare per cui è stato proprio Zilischi poi a battere il rigore contro l'entrac mi scusi no volevo sapere se c'era come mai è stato proprio Zilischi a battere il rigore contro l'entrac di Francoforte se c'era un motivo particolare oppure l'hanno deciso i ragazzi così spontaneamente l'hanno deciso i ragazzi perché dentro il nostro spogliatoio c'è democrazia è intelligente quello che dice cose intelligenti non quello che dite voi è bravo quello che fa vedere che è bravo non quello che dite voi no no ma stima assoluta faccio per dire in generale quello che succede e se i calciatori poi decidono di fare diversamente a quello che erano le indicazioni e anche da questo aspetto qui ora sono più tranquillo perché ogni allenamento si fermano a calciare i rigori e c'è stato un miglioramento notevole da quello che sono delle qualità perché anche quelle lì sono delle qualità ma se ci vai a lavorare dentro poi le rendi meno difficoltose se non fanno parte del tuo bagaglio e lui ha preso rigore ha preso rigore poi gli dava fastidio quello che era successo nei rigori precedenti perché ogni tanto giocano su questi discorsi è andato lì e ha chiesto di poterlo battere gli è stato concesso a quel punto lì si sta buoni perché perché è corretto così c'era una una tranquillità che gli permetteva probabilmente allora è bello è bello vedere che collaborano così e che si danno mano aiutandosi in base a quelle che sono le cose da mettere a posto individualmente partecipano tutti perché di squadra trattasi grazie grazie a tutti